E' da un sacco di tempo che sto cercando Ettore Majorana Non riesco a trovare quello che effettivamente voglio Io ho una registrazione del professore quando spiega Ettore Majorana E ho anche il file che comunque ci ha dato di Ettore Majorana Ma il fatto è che lui essendo un professore universitario Che comunque è dal liceo Come dire, lui ha un metodo universitario Cioè noi dobbiamo fare come le cose universitarie Che comunque sarebbe il metodo giusto Attenzione, non lo metto in dubbio Siamo noi che sbagliamo Però il fatto è che gli slide che ci dà Sono le stesse che porterebbe all'università Quindi proprio frasi piccole C'è una frase per far capire il concetto E poi lui spiega tutto il tempo Che assolutamente per l'università è normale Però per il liceo non penso proprio Cioè è un professore davvero molto bravo Però diciamo che il liceo non si può Cioè non è che non si può Però i studenti non sono portati Per un metodo di studio universitario Perché comunque Per un metodo di studio universitario Perché comunque Ci sono materie che a cui non mi frega niente Per esempio latino non mi frega niente Che ne so Italiano anche lo stesso Gli autori Cioè non è che mi cambia molto Sapelli non sapelli Storia Storia è una materia che ho sempre odiato Dal principio E continuerò ad odiare Finché non finisco il liceo Però quando andrò all'università Tipo Dovevo fare la storia Del Che ne so Quando andrò all'università Di informatica La storia dell'informatica Intendo quello Quindi Aia Però almeno la storia generale Si è finita E quindi se devo fare la storia Me la faccio Di una cosa che mi piace Ehm Boh Volevo condividere questa cosa Questo mio tratamento Dannato Ettore Maiarana Sarà così il titolo Sì sicuro Volevo condividere Ander